Nell'ecoparco di via Masciangelo a Lanciano sorgerà un attrezzatissimo parco giochi con annessa isola ecologica grazie ad un progetto della Ecolan in collaborazione con l'amministrazione comunale. Il costo dell'opera sarà di 90.000 euro tutto a carico della Ecolan. Questo è un luogo di aggregazione e di pubblica utilità perché qui ci sarà un'area dedicata ai bambini con un parco gioco anche per i diversamente abili, un'area di sgambamento, un'area fitness qui dietro proprio le mie spalle e una serie di panchine con tutto un sistema di wifi gratuito e di ricarica di bici e telefonini. E poi ci saranno due strutture, una dedicata al conferimento delle plastiche con un sistema di punti, l'utente può poi ricavare da questo conferimento acqua e sapone. L'altra struttura sarà dedicata a 300 utenze che risiedono in zona, ancora da definire il numero di utenze e le utenze stesse le sta individuando l'amministrazione comunale, che verranno a conferire tramite delle buste Corcur Code direttamente qui. Quindi quei condomini non avranno più il kit condominiale, verranno a conferire qui tramite queste buste, ci sarà una tracciabilità e sperimenteremo quello che viene chiamato la tariffazione puntuale. Qual è stato il costo di questo progetto? Il progetto vale 90.000 euro circa, l'amministrazione comunale ci ha dato la disponibilità di quest'area e Ecolan ha messo la quota relativa e devo ringraziare anche EcoControl, che è il privato che sta realizzando queste strutture, che ha collaborato anche finanziariamente a questo progetto.